dire bio dire make up oggi il trucco per il primo giorno di scuola il primo passo è applicare una crema per il viso 100% naturale perché fin da giovani abbiamo bisogno di prenderci cura della nostra pelle 3 4 4 5 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16